Vendita più ingegneria e meno creatività. In questo video ti voglio parlare di parecchi aspetti che gravitano attorno al mondo della vendita partendo dal fatto che intanto ci sono sulla vendita molti luoghi comuni. Uno di questi è che la vendita è faccenda creativa, la vendita è un qualche cosa che soprattutto anche se parliamo di risorse umane deve essere un tema che vede come protagonisti i creativi perché il venditore deve avere una creatività, deve essere un imbonitore, deve essere uno in grado di insomma gestire la situazione con i clienti in una certa modalità e per poterlo fare, per poterlo convincere lui deve essere un grande creativo. Ecco nulla di più sbagliato. La vendita non è creatività, è chiaro che il venditore, il venditore deve essere certamente una persona che ha delle caratteristiche, delle attitudini, quindi è chiaro che creare empatia significa avere come dire delle capacità che però anche in questo caso possono essere nella maniera più assoluta studiate, non sono innate. Resta inteso che ci sono delle persone che hanno grande facilità di creare per esempio empatia ed altre che invece hanno una grande difficoltà in questa direzione. Però premesso tutto ciò il messaggio con cui sono partito è vendite più ingegneria e meno creatività. Intanto siamo nel mondo del business to business, stiamo parlando di quella che si chiama vendita complessa, stiamo parlando di quei processi che tra imprese possono durare anche dei mesi. Basta che tu pensi alla vendita di prodotti ad alto prezzo di vendita, che ne so, un macchinario industriale, un software, decine di migliaia di euro di fornitura. Questa è la vendita complessa che significa che il processo dura tempo, che sono coinvolte da parte degli acquirenti più persone, le cosiddette buyer persona, possono essere più di uno, puoi avere un tecnico, puoi avere l'amministratore delegato, puoi avere l'ufficio acquisti. All'interno di un percorso di vendita, all'interno di un contratto ci sono molti tempi, molte persone coinvolte e parecchie situazioni, parecchi problemi da affrontare. Capirai che questo processo è un processo che va disegnato a tavolino, preparato in maniera maniacale in tutte le sue fasi, perché il processo di vendita inizia molto prima della trattativa. Spesso quando si parla di vendita si pensa solo ad una fase e magari quella ultima, diciamo, di questo percorso. La vendita inizia molto prima, oggi soprattutto con l'avvento del marketing digitale, i clienti si fanno un'idea dei fornitori prima di incontrare un loro venditore. Quindi, insomma, è una faccenda articolata, strutturata, complessa. Il messaggio che voglio dare con questo video è quello di dover essere assolutamente preparati e dover smontare e guardare il proprio processo di vendita in maniera proprio ingegneristica, perché in realtà il processo di vendita è un processo che è fatto di fasi, è fatto di step e nel business to business queste fasi sono quasi sempre le stesse. Poi naturalmente in base all'oggetto di vendita queste fasi saranno più o meno lunghe, avranno una durata più o meno importante, però gli step sono quelli. Allora il tema su cui desidero che tu porti la tua attenzione, soprattutto se vendi alle imprese, soprattutto se c'è operi in mercati business to business, è quello per il quale non devi pensare che il processo di vendita faccia capo solo ai venditori. Primo grande aspetto che va considerato. Il marketing lavora prima dei venditori e poi li accompagna anche nel loro processo, quindi iniziamo ad entrare nell'ordine di idee che chi deve acquistare il tuo prodotto, il tuo servizio, come dicevo prima, si fa un'idea di chi sei, di quanto tu con la tua impresa debba meritare fiducia oppure no, ben prima di dialogare con una persona fisica. Quindi la prima cosa che dovresti fare è guardare i tuoi strumenti di marketing, il sito web, le brochure, i social, i materiali di cui un utente può fruire prima di dialogare fisicamente con qualcuno, fare un check di tutti questi materiali e capire se sono adeguati oppure no. Questo perché, ripeto, il cliente nel B2B cerca, guarda, si informa, approfondisce e si fa un'idea della tua impresa molto prima di dialogare con qualcuno. Naturalmente se questa idea è un'idea cattiva, non è un'idea buona, non ti darà fiducia e tu nemmeno lo saprai perché ti avrà scartato prima ancora di darti la possibilità di far capire perché dovrebbe scegliere te. Quindi capirai che il processo di vendita inizia prima del utilizzo dell'uomo, della persona fisica, di un venditore e capirai che stiamo definendo tutto ciò come un processo, come un flusso fatto di tappe. Naturalmente man mano che vai avanti con questo disegno, quindi immagina di dover disegnare su carta questo tipo di processo che oggi va sotto il nome di funnel, va sotto il nome di pipeline, sono degli stadi nei quali può essere scomposto il tuo processo di vendita e naturalmente devono essere codificati, devono essere disegnati e devono essere affrontati della tua impresa in maniera estremamente organizzata. Questo anche per evitare che gli uomini, i tuoi uomini, si comportino in maniera diversa durante questo processo. Abbiamo visto moltissime volte dei venditori mettere il loro disco di vendita, sciorrinare tutta una serie di caratteristiche della propria azienda nel momento sbagliato. Per esempio nella fase iniziale del processo di vendita, quella in cui il cliente si informa, il cliente non ha dimostrato ancora un interesse a voler agire, a voler acquistare, quindi inutile che in quel momento là tu gli racconti una marea di cose della tua impresa. In realtà devi capire se lui è nel momento giusto per acquistare oppure no. Quindi anche gli strumenti di marketing a supporto delle fasi del ciclo di vendita devono essere collocati in questo flusso in maniera giusta. Per esempio dei casi di studio, delle referenze, delle testimonianze sono un'ottima cosa ma non vanno utilizzati in tutto il processo di vendita, vanno utilizzati in alcuni momenti specifici. Possono in una certa sintesi essere mostrati al cliente sin dall'inizio, certamente possono essere veicolati come veri e propri casi di studio, quindi come supporto alle argomentazioni di vendita quando sei magari un po' più avanti in questo processo. Quindi in sostanza il messaggio che desidero darti in questo video penso tu lo abbia già colto. Verifica quali siano gli step del tuo processo di vendita, codificali, mettili su carta, disegna la tua procedura commerciale. La forma che dovrai ottenere sarà una forma scritta, quindi dovrai avere un documento nel quale tutti questi step sono presentati, sono descritti e sono descritti anche gli strumenti con i quali vanno affrontati questi step, strumenti di marketing, tutto ciò che può essere corollario della tua vendita. L'aspetto successivo su cui dovrai fare attenzione è che le persone, i venditori in primis coinvolti in questo processo sappiano che esiste questo processo e lo mettono in pratica. A questo punto il tuo compito, quello dell'imprenditore, quello di chi fa direzione commerciale, sarà monitorare che tutte le persone facciano le attività e le cose per bene. Ti ricordo che un CRM è uno strumento di fondamentale importanza per poter mappare, tracciare il processo di vendita e quindi vedi come questa attività sia molto più vicina a un modello, ad uno schema, ad un'attività ingegneristica rispetto ad una attività di tipo creativo. Quindi lasciamo stare l'idea della creatività applicata alla vendita, ci sono pochissimi step nei quali tutto ciò potrebbe essere implementato, in realtà il processo è un processo step by step che deve essere affrontato tutti in questa maniera. Poi naturalmente le tue procedure potranno essere revisionate, migliorate, aggiornate, ma se segui questo modo di vendere la tua impresa sarà molto più forte. In questa pagina trovi un link, hai la possibilità di approfondire, chiedere consulenza gratuita, provare i servizi della nostra agenzia. Quindi se il mondo del marketing business to business lo vedi vicino alle esigenze della tua impresa, sei il posto giusto.